Una tappa importante, abbiamo cristallizzato il lavoro dei cinque tavoli tematici e si capisce che abbiamo portato avanti una politica che mette insieme e coniuga concretezza e visione del futuro. I cinque tavoli sono stati presentati con la presenza del Presidente De Luca, un bel lavoro, un lavoro corale con tutti i portatori di interessi, con la struttura regionale, le università, le organizzazioni di categorie, i centri di ricerca. Un bel lavoro entusiasmante, avvincente, che darà la linea alla nostra regione e credo anche un contributo nazionale all'agricoltura, ma soprattutto un indirizzo chiaro ai prossimi dieci anni della nostra regione per l'agricoltura.